Sono lieto di darvi il benvenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 della Scuola Internazionale Superiore di Studia Avanzata. Mi chiamo Davide Montesarchio e sono qui oggi a svolgere il ruolo di maestro cirurgico. Prima di iniziare, faccio presente a tutte e a tutti che per questo evento è disponibile la traduzione simultanea in lingua inglese attraverso l'app Berset Conference, utilizzando il codice 9556. Before starting, I kindly remind that for this event, Simultaneous Translation is available through the app Berset Conference, using the code 9556, as indicated in the email that you received. Desidero a questo punto invitare a salire sul podio il direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, il professor Romanino, per procedere nel saluto da parte della autorità. Grazie. Buongiorno e benvenuti alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della Sissa. Quest'anno coincide con l'apertura del Convenio Nazionale di Comunicazione della Scienza. Come avete sentito, la cerimonia si terrà in lingua italiana e inglese. La mia produzione sarà in italiano. E chiedo bene allora la nostra nutrita componente internazionale, lo faccio in inglese. I apologize to our sizable international community, central to Sissa, for using Italian as a very first part of the ceremony. Rest assured that I will do my best to preserve and improve the international environment at Sissa, also by promoting the use of English in America. Sono felici e onorati di avere con noi la vice sindaco Serena Tonelli, l'assessore regionale Alessia Rosolen, il prefetto annunzato Valdele, a cui lascio subito la parola per un indirizzo di salute. Buongiorno a tutti e alle autorità convenute. Grazie al direttore neo-insediato, quindi buon lavoro particolarmente a lui, il professore Andrea Romanini. Sono lieta di poter portare a voi qui in presenza, finalmente, con vivo piacere i saluti dell'amministrazione comunale e del sindaco Roberto Di Piazza all'inaugurazione di questo nuovo anno accademico della Sissa. Agli studenti, al corpo accademico, al personale tecnico e amministrativo, auguro davvero il miglior futuro. Un futuro che dipende da noi tutti, mai come ora, se vogliamo, in un momento in cui abbiamo la possibilità di vincere la sfida del coronavirus e con le difficoltà che ci ha messo davanti, rimanendo uniti. Dopo una pandemia, appunto, che sembrava aver allentato la morsa, e ora vediamo forse un po' minacciata questa sicurezza che negli ultimi mesi avevamo raggiunto, i sacrifici fatti. Abbiamo la possibilità di superare le restrizioni che non avremmo mai immaginato di dover affrontare, ma questo passo passa necessariamente attraverso la fiducia nella scienza. E mi fa piacere ricordarlo nell'occasione, appunto, dell'apertura dell'anno accademico della Sissa, rassicurando i cittadini, attraverso la fiducia nella scienza, come dicevo prima, nei confronti della campagna vaccinale che ci vede impegnati anche come istituzioni, con l'obiettivo di proteggere soprattutto i soggetti più fragili, come ad esempio coloro che non possono immunizzarsi. La necessità di diffondere la conoscenza è, oggi più che mai, un punto fondamentale per tutti noi per combattere anche atteggiamenti che si basano molto spesso sul nulla, permettetemi di dire, o comunque sul complottismo o su false conoscenze. E quindi, atteggiamenti comunque irresponsabili da parte di molte persone che hanno comunque ricadute negative su comunque tutti noi, anche chi appunto si è affidato alla scienza. E con conseguenze negative sulla vita di tutti noi e anche su tutto quello che riguarda anche l'economia della nostra comunità. La nuova conoscenza sviluppata attraverso la scienza e la conoscenza scientifica ha consentito di produrre in tempi molto rapidi appunto i vaccini per affrontare questa situazione pandemica. E questo ci porta a dire che è l'unica arma che noi in questo momento abbiamo a disposizione per uscire dalla situazione molto difficile che viviamo. e ci tengo a dire in particolar modo in questo momento queste cose qui perché la Sissa tra i vari corsi che offre presenta anche il Master di giornalismo scientifico e di divulgazione scientifica e quindi forma anche coloro che avranno la responsabilità di fare comunicazione scientifica e quindi di, diciamo, di farsi da tramite tra la comunità scientifica stessa e i cittadini. Un ruolo che ora più che mai evidentemente appare essenziale. Oltre a queste considerazioni, in merito diciamo alla situazione contingente, mi fa piacere riportare le considerazioni sull'importanza per Trieste della presenza di enti di alta formazione scientifica di importanza internazionale cosa che rende Trieste un ecosistema vero e proprio della scienza e che intendiamo come enti, come istituzioni, valorizzare sempre di più e qui vedo appunto anche l'assessore Rosoli che prenderà la parola successivamente perché come comune e come regione mettiamo molte risorse ed energie nel cercare appunto di implementare sempre di più questo rapporto stretto tra la scienza e l'applicazione tecnologica proprio per dare una competitività anche economica al nostro territorio. Buon anno accademico davvero a tutti voi e auguro naturalmente i migliori successi accademici e professionali a tutti e un particolare benvenuto agli studenti e alle studentesse che vengono da lontano. Lavoriamo ogni giorno per rendere la città accogliente anche per voi. Buon lavoro a tutti, grazie. ringrazio la dottoressa Serena Tonel e invito a salire sul palco la dottoressa Alessia Rosolet, assessore regionale a lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia. Grazie e buongiorno a tutti. Permettetemi di fare innanzitutto un iniziale sentito ringraziamento sia al direttore che ha appena concluso con direi successo il suo mandato il professor Stefano Ruffo e l'augurio di buon lavoro al nuovo direttore professore Andrea Romanino. Fatto questo ovviamente e non per circostanza e per rito porto i miei saluti da parte dell'amministrazione regionale e del presidente Fedriga a tutti gli studenti, ai dottorandi, ai ricercatori, al corpo docente, al direttore amministrativo, al personale tecnico e amministrativo e a tutti coloro che sono stati invitati in presenza e da remoto all'inaugurazione di questo anno accademico. 43 anni, perché questa è l'età che ha la sissa, hanno permesso a questa istituzione di acquisire una capacità, credo, di ricerca e di insegnamento di grande prestigio. È stato da parte dell'amministrazione regionale, da parte di tutte le istituzioni nazionali ed europee e le istituzioni locali, un investimento intelligente, un investimento lungimirante, perché è stato fatto sui giovani quando dei giovani ancora si parlava poco e quando sull'università, sulla ricerca, sul sistema della formazione e dell'istruzione si investiva poco, a differenza di quanto avviene ora, che all'interno di qualsiasi programma europeo, nazionale, regionale, il tema dell'investimento sulla conoscenza è il tema centrale sul quale si sviluppa tutta la crescita, sul quale si sviluppa tutto il nostro tessuto produttivo, sul quale si concentrano tutte le attenzioni rispetto a quello che è il ruolo che questa società, che noi come persone, come pubblici, amministratori, dobbiamo avere in un momento come questo, pensando a ciò che accadrà, che accadrà dopo. Quando si investe sulla formazione e si comprende che l'esigenza più importante è quella di consolidare, rafforzare, andare a difendere e ad ampliare quelle che sono le possibilità dell'uomo, della società nella quale viviamo, credo facciamo il nostro dovere, il nostro dovere minimo rispetto a quelle che sono le azioni che devono essere messe in campo. E oggi il dovere, che è forse ancora più forte nella situazione che viviamo, cercherò di non nominarlo, nella situazione in cui viviamo dopo questo anno e tre quarti, perché manca poco ai due anni, il dovere di oggi credo sia quello più importante di ampliare la base di quanti partecipano alla conoscenza, di quanti possono partecipare alla conoscenza, di quanti devono raggiungere i livelli più alti della conoscenza. È una responsabilità comune, lo diciamo sempre, è una responsabilità che non è del singolo, della singola istituzione, del singolo ente, del singolo progetto o programma, è una responsabilità comune, collettiva, che io ritengo sia fondamentale ancora di più in un momento come questo, ma che ritengo sia ormai la visione che fino a qualche anno fa sembrava venire gradualmente abbandonata, di immaginare che solo l'unità e non la parcellizzazione delle azioni rendono più forte il sistema, rendono più forte una regione piccola, che però credo abbia fatto dei grandi passi e dei grandi investimenti nella quale noi viviamo. Non effettuerò considerazioni oltre ai ringraziamenti per come la Sissa ha saputo da subito muoversi assieme a tutto il sistema universitario regionale per essere vicina alle istituzioni nelle risposte che dovevamo dare nella quotidianità dell'emergenza e nella quotidianità dell'immaginare il futuro nel quale stiamo vivendo. Però ecco, da un tema e da una situazione come quella che abbiamo vissuto e avviene sempre nella storia dell'umanità, nascono in realtà anche grandi possibilità e grandi risorse. Il PNRR, e lui lo cito, il PNRR è il sistema che in questo momento abbiamo messo a disposizione per la ripresa e il rilancio dell'economia che evidentemente non può prescindere da quella che è la base di qualsiasi ragionamento che passa ovviamente attraverso la conoscenza, la scienza e la ricerca. E la regione Friuli Venezia Giulia deve, e io sono convinta che lo sarà e lo saranno le sue istituzioni scientifiche di ricerca, essere pronta a saper cogliere fino in fondo queste nuove opportunità. Questi anni non sono trascorsi in vano, non starò a ricordare perché penso spetti a chi ci ha permesso di raggiungere questi livelli, non starò a ricordare tutti i dati importanti che questa regione può raccontare rispetto al nostro Regional Innovation Scoreboard, il numero dei brevetti, le startup innovative, il numero di ricercatori stranieri che riusciamo ad attrarre e molto spesso a mantenere sul nostro territorio, le risorse dell'IRC, la fiducia che da tutte le ricerche emerge esserci da parte della popolazione su queste istituzioni e non starò a ricordare come in realtà assieme a tutti questi dati positivi abbiamo dei dati importanti sui quali puntare e concentrare tutti i ragionamenti che stiamo facendo e che riguardano e per quanto e per quanto mi concerne in primis un tema di invecchiamento della popolazione sul quale credo che le attenzioni e la capacità anche di attrarre nuove risorse umane su questo territorio debba debba essere importante per permetterci di continuare a mantenere tutti 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 questi livelli rispetto a questo che cosa ha fatto l'amministrazione regionale ed è ed è ben conosciuto da voi che siete qua noi abbiamo già concluso tutto il nostro percorso di strategia regionale sulla specializzazione intelligente abbiamo riorganizzato i parchi scientifici eh regionali ehm anche grazie e soprattutto grazie al contributo del sistema universitario e del sistema produttivo che hanno avuto e che continuano ad avere come obiettivo quello di andare a valorizzare modelli organizzativi che siano competitivi a supporto di tutte le sfide legate e questo è un tema è un tema trasversale alla transizione verde e digitale abbiamo già operativi i nostri digital innovation hub eh regionali e siamo pronti ovviamente alla candidatura sugli european digital hub eh rispetto al sistema universitario anche questo è un dato che non che non che non conta molto ma credo che eh rispetto al sistema universitario regionale abbiamo avuto la capacità soprattutto negli ultimi tre anni di andare ad inserire risorse importanti che messe assieme a tutto il tema del diritto allo studio ammontano ad oltre cinquantatré milioni di euro ai quali si sono aggiunti oltre anzi quasi direi tredici milioni di euro del fondo sociale europeo per andare a supportare tutta l'attività che all'interno delle nostre università si svolge la sapu la sissa come le altre università hanno saputo sfruttare al meglio i finanziamenti che sono stati assegnati dalla regione Friuli Venezia Giulia e per questo eh e per questo mi è stato raccomandato di eh fare di rivolgere un ringraziamento a tutti gli uffici della sissa che hanno saputo gestire con caparbietà ed è una storia lunga credo quarantatré anni i fondi che l'amministrazione regionale ha messo loro a disposizione basta pensare che gli investimenti nelle infrastrutture di ricerca ma anche negli interventi edilizi eh sono tutte in linea con la programmazione e adesso arriva il PNRR e la eh nuova programmazione dei fondi strutturali ventuno ventisette io credo che questi credo io sono certa che questo eh è il tema che occuperà il dibattito non dei prossimi mesi ma dei prossimi anni perché le risorse che abbiamo a disposizione non dobbiamo dimenticarlo mai sono risorse che dobbiamo saper spendere non necessariamente spendere ma dobbiamo saper spendere nel mondo migliore per restituire qualche cosa proprio alle nuove generazioni alle quali guardiamo e rispetto alle quali il ruolo che noi in questo momento ricopriamo è minimale farò un riferimento alla fine alla vostra quartina dantesca perché credo che solo nella sua lettura complessiva sia possibile comprendere qual è il ruolo che la politica deve avere in un momento come questo qual è il ruolo che le istituzioni devono averla per accompagnare la politica che non è sempre traino ma ogni tanto ha bisogno anche di sostegno di aiuto e soprattutto di indicazioni puntuali in un momento come questo rispetto al tema del pnrr esattamente come tutto il sistema scientifico regionale sono convinta che la sissa saprà dimostrare le sue capacità progettuale saprà coinvolgere i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici che hanno talento e dimostrando la sua leadership nel settore amministrazione regionale del friuli venezia giulia ha investito e non smetto mai di ricordarlo nell'essere una learning region è un è un appellativo ed è un etichetta che non si aggiunge alle tante che già ognuna delle nostre istituzioni ha ma è una visione diversa del modo con il quale ci approcciamo a sistemi come quello eh che oggi siamo siamo qui a celebrare in cui il capitale umano adeguatamente formato è la fonte di ogni di ogni azione e il fine ultimo delle azioni che mettiamo in campo spero con questo che la regione friuli venezia giulia abbia dimostrato in questi anni di credere nella sissa abbia dimostrato di credere nello sviluppo di un sistema complessivo fortemente sostenuto dalla scienza e della dalla ricerca spero che la regione abbia agito con le armi che aveva e abbia agito anche con coraggio a favore dell'ingegno che è riprendendo quanto detto prima del vice sindaco di trieste serena tonel l'ingegno che è l'unico amuleto contro la barbarie è l'unico antidono all'imbarbarimento ecco finisco con la vostra quartina con la prima parte che dice quello che poi alla fine ognuno di noi all'interno di qualsiasi ruolo ricropra deve deve ricordare sempre considerate la vostra semenza buon lavoro grazie mille assessore invito adesso al podio il signor perfetto di trieste dottora annunziato cordiale saluto a tutti voi ringrazio in particolare il direttore professore andrea romanino per l'invito che mi offre peraltro l'opportunità di conoscere più da vicino questa prestigiosa realtà scientifica rappresentata dalla scuola internazionale superiore di studi avanzati e colgo l'occasione per formulare al professore i miei più sinceri e cordiali auguri del buon lavoro in questo suo prestigioso incarico che da poco ha cominciato a ricoprire da poi gli è stato conferito anch'io sono a trieste da solo una decina di giorni e ma ho già avuto modo di apprezzare oltre alla bellezza della città l'alta concentrazione di istituti e centri di ricerca di rilevanza internazionale presenti sul territorio tra questi sicuramente questa scuola che costituisce una eccellenza scientifica e vede impiegati nelle ricerche professori e ricercatori di fama internazionale una realtà forse poco conosciuta a livello nazionale al di là al di fuori dei circuiti scientifici ma che ha avuto modo anche nel recente passato di annoverare tra i suoi estimatori e sostenitori il nostro presidente della repubblica presente alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2019 2020 e questa è una realtà che fa della collaborazione della condivisione e della capacità di fare squadra i suoi punti di forza e gli importantissimi risultati scientifici ottenuti sono sotto gli occhi di tutti sinergie che come noto la sisse è riuscita negli anni anche a creare con le realtà scientifiche e con le istituzioni locali non ultima la prefettura di trieste che fornisce agli uffici amministrativi il doveroso supporto di conoscenze necessario per la presenza e permanenza in italia dei ricercatori stranieri l'oggetto dell'alexio magistralis dr intitolata data fighting pandemics i dati per combattere le pandemie è un argomento di stretta attualità e ormai da quasi due anni che combattiamo in una lotta serrata contro un nemico invisibile il virus covid-19 sono impresse nella memoria di tutti noi le immagini delle strade deserte e soprattutto il triste ricordo dei tanti morti in solitudine non avendo avuto la possibilità del conforto dei propri cari l'emergenza ahimè non è ancora finita e non solo perché lo stato d'emergenza scade il 31 dicembre prossimo ma sarà sicuramente prorogato ormai è certo che dovrà essere prorogato non è finita perché i dati attuali e appunto forniscono un quadro di diffusione del virus ancora in aumento il report giornaliero del ministero della salute al 15 novembre vedeva 120 mila 875 casi positivi in tutta italia e 3 mila 508 ricoverati con sintomi e 475 eh in terapia intensiva in queste ragioni positivi al 15 novembre risultavano essere 4 mila 996 con 158 ricoveri e 23 eh in terapia intensiva sono numeri ancora preoccupanti soprattutto in questa regione in filo Venezia Giulia che rischia di transitare in zona in zona gialla e siamo preoccupati ma siamo fortemente impegnati soprattutto in questa città che registra come dicevo il più alto numero di contagi giornalieri ogni centomila abitanti a far prevalere la ragione a far capire che lo scudo dei vaccini e l'unica arma di difesa passiva che ci protegge e che è stato possibile ottenere grazie alle donne e agli uomini di scienza che prima hanno isolato il virus e poi sono riusciti in tempi brevissimi a produrre i vaccini e ciò che si fa qui quotidianamente alla sissa dove come recita il motto ripreso nel logo si viene per seguir virtute e canoscenza e dove questa conoscenza è poi messa a disposizione di noi tutti perché la scienza è importante ricordarlo e ribadirlo sempre non è sapere riservato a pochi ma lavoro e sacrificio di mesi e a volte di anni di donne e di uomini i cui risultati entrano poi nella quotidianità di tutti noi migliorando la qualità della nostra vita è necessario dunque rispettare e incoraggiare questo lavoro e ringraziare tutti coloro che con passione lo fanno non mi dilungo oltre per non rubare tempo dalla prosecuzione dei lavori ma è con questo spirito che auguro buon anno accademico e a tutti buon lavoro grazie ringrazio le autorità per i loro interventi e invito adesso al podio il direttore della scuola internazionale superiore dei studi avanzati professor andrea romanino per il discorso di apertura prego il testo non scorre la regia comunque possiamo comunque cominciare allora un ringraziamento sincero alle al prefetto l'assessore regionale alle vicesindaco per la loro presenza alle gentili parole che che testimoniano la vicinanza e l'attenzione delle nostre istituzioni alla realtà scientifica del nostro territorio dimostrano quanto credono alle nostre istituzioni scientifiche rivolgo un ringraziamento anche agli ex direttori qua presenti al professor ruffo innanzitutto che mi ha preceduto caro stefano come ho avuto l'occasione di dirti sei stato un direttore disinteressato e saputo interpretare con garbo generosi generosità e umanità il tuo ruolo e allora grazie a nome di tutta la scuola per l'impegno che è profuso per la sissa in questi anni anche in un periodo di acque agitato in particolare appunto negli ultimi due anni grazie anche al professor fantoni che era guida della scuola quando sono arrivato e chi avrebbe immaginato che il percorso iniziato allora avrebbe condotto qua oggi caro stefano poche persone hanno avuto altrettanto impatto sull'università italiana quanto te e questa è la seconda volta che la sissa una direzione interna e il tuo precedente ahimè pone la sticella molto in alto infine un ringraziamento davvero speciale lo voglio fare al professor amati e non solo ha guidato la sissa per 15 anni ma è stato e ancora è la sissa quando sono arrivato qua è stato anche nelle riunioni del piccolo gruppo di particella le quali prendeva parte daniele che ho capito che ero arrivato in un'istituzione fatta di persone straordinarie con un raro senso di appartenenza e del bene comune ho capito che era l'istituzione in cui avrei voluto stabilirmi dopo anni all'estero quella che sarebbe diventata una seconda casa allora caro daniele a un fuori classe come te la sissa e io personalmente dobbiamo molto mi fa piacere poterlo ricordare nell'anno in cui hai concluso un altro decennio di avventure e ne cominci uno nuovo comincia un nuovo anno accademico e anche quest'anno il tema da qui cominciare quello ovvio dobbiamo seguire con attenzione e cautela evolversi della situazione sanitaria ma lo facciamo con uno spirito diverso per quanto l'allarme non sia cessato la situazione di gran lunga migliore che nei momenti più bui della pandemia il nostro paese nel suo complesso sta facendo ora meglio di tanti altri e questo non nonostante il graduale ritorno verso una vita partecipata nonostante le strade non siano più deserti se questo è il caso se possiamo guardare al futuro con maggiore ottimismo e grazie sicuramente ai risultati senza precedenti che la ricerca ha prodotto e che hanno consentito di iniziare in tempi di record la campagna di protezione vaccinale a tempo di record in particolare nella nostra regione in cui la sinergia tra il sistema sanitario l'amministrazione regionale e l'università ha consentito la protezione a attraverso la vocitazione di tutto il personale accademico lo sforzo del quale anche la sissa ha potuto giovarsi e che ha consentito la graduale ripresa in sicurezza delle nostre attività la ripresa delle attività in sicurezza quanto mai necessaria stima accademica imparata a funzionare con una nuova modalità è vero e sono siamo riusciti a garantire una certa continuità le nostre attività di formazione di ricerca e certamente faremo tesoro di quanto abbiamo imparato sono sicuro che continueremo a tenere seminari in presenza a rendere fruibile la didattica a distanza che avrà validi motivi per non poterne usufruire in presenza rimaniamo tuttavia convinti che l'interazione in sede sia fondamentale sia per la didattica che per la ricerca special modo la sissa dove la didattica e la ricerca si fondono nella formazione dottorale fatta di interazione quotidiana alla lavagna e ai lavoratori quanto mai benvenuta dunque la nuova normalità che stiamo faticosamente riguadagnando e che vorremmo non fosse messa a repentaglio mettendo in discussione proprio gli strumenti che ci stanno permettendo di riguadagnarla mi riferisco naturalmente in primo luogo allo strumento della protezione vaccinale alle scelte che hanno consentito di erogarlo con efficacia e anche le campagne di disinformazione che hanno portato a fenomeni di polarizzazione in particolare nella nostra città questo fenomeno di polarizzazione il rischio è che la comunità scientifica va ad occupare il polo opposto prestando il fianco a una controposizione conflittuale che non farebbe altro che accentuare questa polarizzazione quando invece al contrario il valore della scienza è proprio quello di essere neutrale tanto quanto lo sono le leggi nella natura che studia che non seguono l'opinione dell'uno dell'altra ma il loro corso ineluttabile in maniera misurabile oggettiva verificabile riproducibile vorrei dunque piuttosto depolarizzare in un'arena in cui la dinamica emotiva vince sull'argomento razionale è bene che da una parte lo scienziato si guardi da salire sul podio che pure una vita di studi gli offrirebbe ed è importante che dall'altra parte ci sia disponibilità l'ascolto senza pregiudizi allo scopo innanzitutto di salvaguardare la libertà e i diritti collettivi non ultimo quello di vedere rappresentata le immagini di una città la città della scienza che anni di dedizione responsabile da parte di persone istituzioni hanno contribuito a costruire scienza come fattore depolarizzante dunque affinché possa esserlo la comunicazione della scienza assuma un ruolo fondamentale il particolare rilievo assuma allora il convegno nazionale di comunicazione della scienza che è oggi contestualmente apriabile comunicazione della scienza lo ricordo cara la sissa che da quasi trent'anni organizza il master in comunicazione della scienza che oggi rappresenta un punto di riferimento in italia e si colloca prima in europa per storia e continuità oggi iniziano quattro giornate dedicata alla comunicazione della scienza e rapporti tra scienza società che rappresentano uno spazio di confronto avanzato fra professionisti e ricercatori del settore del nostro paese allora ringrazio ringrazio gli organizzatori i partecipanti al convegno approfitto per ringraziare la dottoressa vittoria colizza che terrà l'alexio magistralis che possiamo annoverare tra le nostre allievi illustri e nonché il presidente dell'istituto superiore di sanità professor silvio brusa ferro il ministro dell'università della ricerca professoressa cristina messa che dialogheranno con il dottor massimo sideri del corriere della sera anche in relazione ai temi della comunicazione della scienza massa che ho appena citato è un bel esempio del ruolo che la si sa rappresentato come lavoratore di innovazione scientifico e accademico come lo è la realizzazione della prima rivista scientifica elettronica al mondo il journal of energy physics ora leader nel suo campo e parte del ricco patrimonio di riviste di sissa media lab naturalmente l'esempio più eclatante di rinnovazione accademica che ha visto protagonista la sissa è lo stesso dottorato di ricerca introdotto in italia con la fondazione della sissa nel 1978 oggi a più di 43 anni di distanza nel nostro paese sta nascendo una nuova consapevolezza sul ruolo del dottorato come motore di innovazione una consapevolezza rispecchiata anche dal piano nazionale di ripresa e resilienza che ha proprio l'innovazione tra i suoi cardini in effetti la formazione dottorale si esprime in primo luogo nella conduzione di ricerche che comportano la risoluzione mai affrontati problemi mai affrontati prima ed è così che si apprende il famoso problem solving non sui libri ma quotidianamente alla lavagna in laboratorio in bottega per così dire ed è proprio questa capacità di risoluzione di problemi che il dottorato insegna la chiave dell'innovazione quella vera ed è quella la vera essenza della formazione dottorale una capacità di risoluzione di problemi che voglio sostenere il comune ai dottorati in discipline applicate e di base da questo punto di vista la distinzione tra dottorati finalizzati all'ingresso all'accademia piuttosto che nell'impresa o nella pubblica amministrazione appare quanto meno sfumata 43 anni l'assista affinato la sua capacità di erogare una formazione di primo livello di collocare i propri studenti nelle migliori istituzioni e sempre di più nel tessuto dell'impresa ciò nonostante lo devo dire è proprio nella nel finanziamento delle della formazione dottorale nel finanziamento delle borse di dottorato che la siffra che la sista soffre maggiormente finanziamento ministeriale copre approssimativamente la metà del corso delle borse di dottorato e la parte scoperta sostanzialmente ricade sul budget di funzionamento col risultato paradossale di disincentivare il perseguimento della nostra missione più studenti dottoriamo meglio solviamo la nostra missione e più profonda diventa l'erosione del nostro budget di funzionamento questo è un problema non solo nostro ma naturalmente più acuto per chi come noi ha la formazione dottorale come missione principale il peso delle borse molto più significativo per noi e conseguentemente il loro taglio più doloroso il pnr aiuterà speriamo da questo punto di vista mette a disposizione risorse significative sul dottorato e mi auguro che queste risorse possano innanzitutto contribuire a rendere il dottorato sostenibile secondo punto di attenzione in questo momento da noi è la mancanza di spazi la sissa vittima del proprio successo in un certo senso la collocazione ai vertici nelle valutazioni nazionali della ricerca si traduce nella disponibilità di posizioni premiali che hanno portato negli ultimi anni a una crescita significativa del personale docente crescita non accompagnata tuttavia da un aumento delle corrispondenti risorse necessarie per la ricerca né delle risorse necessarie alle nuove attività didattiche nelle misure in cui come avevamo detto dottorato ha un costo in termini di borsa e questa crescita accompagnata come si diceva dagli spazi necessari a poter offrire un semplice posto a sedere e dunque quella della carenza degli spazi una delle criticità prioritarie e urgenti che dovremmo affrontare tra i punti di attenzione voglio citare anche l'equilibrio di genere nel personale scientifico la sissa opera in disciplina come la matematica e la fisica che sono note essere afflitte da un disequilibrio di genere questa simmetria origina nelle candidature agli esami di ammissione il numero di candidati è triplo rispetto al numero delle candidate si mantiene costante a livello di ammessi ai corsi di dottorato anzi a volte le studentesse e le candidate sono più brave a superare l'esame di ammissione è ancora costante a livello di personale non strutturato ma vedo un netto a livello di di personale strutturato ed è quello è proprio in questo calo che che sta all'aspetto più insidioso del problema quello sul quale dovremo continuare a concentrare la nostra attenzione garantendo pari opportunità nelle selezioni e attraverso un'adeguata presenza femminile nelle commissioni di concorso una formazione sui pregiudizi inconsci ma anche attraverso iniziative concrete come women in physics un'iniziativa partita con una richiesta di manifestazioni di interesse a partecipare a un eventuale concorso rivolto a scienziate di tutto il mondo e che ha avuto diverse ricadute prima di tutto ha messo in luce la notevole presenza di scienziate di alto profilo di tutto il mondo abbiamo ricevuto ben 116 manifestazioni di interesse di cui 101 dall'estero da istituzioni straniere ha permesso di stimolare l'interesse nei confronti della sissa da parte di queste scienziate ha permesso di massimizzare l'opportunità di reclutare una donna scegliendo il settore disciplinare in cui bandiere il concorso laddove le manifestazioni di interesse da parte di donne erano più forti ho menzionato alcune criticità che dovremmo affrontare ma queste si affiancano delle opportunità importanti le opportunità offerte dal pnr per cominciare opportunità imperdibili in questo contesto sistema universitario ha un dopo un doppio ruolo una doppia responsabilità da una parte quella di mettere a frutto le risorse che il pnr che la riguardano da vicino nel pnr quelle della missione quattro istruzioni ricerca ma dall'altra anche quella di fornire le competenze voglio aggiungere le capacità le risorse intellettuali il personale le risorse umane che possano contribuire a una crescita sostenibile e duratura attraverso anche le altre missioni del pnr ma si sa di fronte anche opportunità specifiche offerte dalla rete in cui opera si sviluppa almeno in tre direzioni quella del territorio innanzitutto assiste la fortuna di collocarsi in un territorio scientificamente particolarmente prolifico con due università forti delle quali non possiamo che giovarci numero particolarmente alto di istituzioni di ricerca di profilo altissimo territorio ulteriormente arricchito da un sistema produttivo forte sano lungimirante nella misura in cui sa cogliere il valore innovativo del dottorato di ricerca territorio coltivato da istituzioni che dimostrano un'attenzione costante alla sua rete di ricerca territorio fertile in cui la sissa può fare sistema accogliere opportunità di collaborazione e di sinergia ultimo esempio le collaborazioni nel campo della scienza di dati che stanno portando alla costituzione del centro interuniversitario in scienza di dati e intelligenza artificiale a cui partecipano la sissa l'università di trieste udine i ctp il mib e le assicurazioni generate un felice esempio di collaborazione tra accademia enti di ricerca e aziende la seconda direttrice in cui si sviluppa la rete della sissa e quella delle istituzioni vicine per missione e struttura in particolare delle scuole superiori ad ordinamento speciale gli anni recenti hanno visto un progressivo avvicinamento delle sei scuole accomunate da specificità punti di forza e criticità una rete è quella delle sei scuole che consente di mettere a sistema un'autenticità di competenze e di attivare un'ampia capacità progettuale capacità messa alla prova dal muro nel definire le linee generali di intirizzo della programmazione triennale ha offerto alle scuole la possibilità di presentare un progetto un programma congiunto un programma che a sua volta ha stimolato l'elaborazione di numerosi progetti di ricerche trasversali oltre che di iniziative di terza missione. Infine voglio menzionare la direttrice internazionale che si sviluppa attraverso la fitta rete di collaborazioni scientifiche che la sissa intrattiene e si riflette nella capacità di attrazione di talenti dall'estero che costituiscono più del 30 per cento della componente studentesca e quasi il 50 per cento dei titolari di assegni di ricerca. In sissa si realizza dunque quella internazionalizzazione fatta di uno scambio equo e proficuo con l'estero, uno scambio che include anche un flusso di ritorno di talenti italiani arricchiti dall'esperienza estera a conferma del fatto che il nostro paese può essere attrattivo. In avvio alla conclusione abbiamo dunque davanti sfide complesse, importanti, insidie e opportunità, ma nell'affrontarle la sissa può contare sull'essere una comunità. Una comunità composta dai personali di primo ordine, da un patrimonio di giovani studenti sui quali sono certo il paese potrà contare e caratterizzata, come dicevo all'inizio, da un raro senso di appartenenza del bene comune. Per questo sono fiducioso, sono fiducioso che la sissa saprà interpretare questo contesto complesso con il senso di responsabilità, l'efficacia e l'afflato ideale che la contraddistingue. Grazie. Ringrazio il direttore e passiamo adesso agli interventi da parte del personale tecnico amministrativo e della componente studentesca. Chiedo alla dottoressa Cristina Cortelli di salire qui sul podio per il suo intervento in rappresentanza del personale tecnico amministrativo. Grazie. Signora ministro, autorità presenti, caro direttore, caro segretario generale, membri tutti della nostra comunità. Con grande emozione vi porgo un cordiale saluto da parte di tutto il personale tecnico amministrativo della sissa che ho l'onore di rappresentare. Esattamente due anni fa eravamo riuniti in questa stessa occasione ad ascoltare con analoga emozione le parole del presidente Mattarella che sottolineava la straordinaria funzione svolta dalla nostra scuola nella valorizzazione della scienza nell'ambito di un territorio quale è il nostro, ad altissima concentrazione di ricerca e risultati. Da quel momento come come sappiamo sono accaduti avvenimenti prima inimmaginabili che hanno da un lato stravolto le nostre vite e dall'altro lanciato nuove sfide in primis proprio alla scienza che oggi siamo qui a celebrare. Nel mezzo della criticità tuttavia la sissa si è fatta trovare pronta riuscendo a trasformare questa grande emergenza in un'opportunità da cogliere per accelerare e consolidare la propria evoluzione verso un nuovo modello di organizzazione universitaria e verso nuovi processi anche amministrativi in grado di rispondere ad esigenze di sempre maggiore complessità. Questa risposta ad una sfida così difficile è stata possibile anzitutto grazie alla resilienza della nostra comunità che si è messa in gioco per proseguire con impegno le attività con modalità diverse dall'ordinario e grazie alla determinazione e lungimiranza dei nostri vertici che hanno prontamente messo in campo importanti investimenti in termini di risorse e attrezzature che ci consentissero di rimanere al passo nonostante le difficoltà e anzi fare un passo avanti in un quadro di così rapido mutamento. Immediatamente dopo l'inizio del primo lockdown la scuola ha fornito a tutto il personale strumenti informatici con cui continuare l'attività da casa esattamente come l'aveva lasciata il giorno prima in sede avviando inedite modalità di lavoro agile che sono da subito state strutturate in modo serio e al contempo flessibile. È stato quindi promosso un nuovo modello di lavoro che al di là della pandemia ci auguriamo possa continuare a consolidarsi nella sua attuale strutturazione mista forti dei risultati che nonostante l'emergenzialità hanno dimostrato quanto questa flessibilità con un focus sugli obiettivi possa declinarsi come scelta di valore permettendo di ottimizzare i servizi e conciliando il fronte personale con quello professionale a vantaggio di entrambi. Il supporto alle tre missioni dell'Ateneo e il reclutamento di personale scientifico e tecnico amministrativo non si sono mai fermati consapevoli che particolarmente in situazioni di crisi come questa la prima e più produttiva risposta è l'investimento sul capitale umano. Proprio presidente Mattarella sottolineò quanto la preparazione e la competenza in qualunque ambito determinino la qualità del servizio. Il nostro auspicio quindi è di continuare sulla strada dello sviluppo di una figura amministrativa e tecnica nuova con competenze rispondenti alle esigenze della realtà contemporanea capaci di attuare realmente quell'efficacia amministrativa che da anni è al centro dell'agenda pubblica. La pandemia mai come prima ha evidenziato la natura di realtà organica della sissa costituita da diverse ed eterogene componenti che concorrono in modo necessario e complementare alla realizzazione degli obiettivi della scuola. Sempre presidente rimase colpito dalla sintonia tra queste nostre varie componenti docenti ricercatori studenti e personale amministrativo e tecnico. Questo deve inorgoglierci e radicare lo spirito di appartenenza che citava il nostro direttore e che rende più efficiente ogni organizzazione che ne sia dotata. Questa sintesi è uno dei grandi punti di forza della scuola per cui il mio augurio è che la sinergia continui ed aumenti consentendo all'indiscussa eccellenza scientifica di godere dell'altrettanto eccellente qualità dei servizi amministrativi che la coadivano. Un'amministrazione snella flessibile orientata ad obiettivi precisi e valutabili che favorisca la valorizzazione delle competenze e la vivibilità del suo ambiente attraverso la formazione l'ascolto e il riconoscimento del merito promuove al contempo il senso di responsabilità dei propri attori. È indiscutibile che l'innovazione e lo sviluppo passano necessariamente per la scienza ma la scienza stessa a necessità di un'organizzazione e di un'amministrazione organizzata, preparata e smart per promuovere e consolidare i propri risultati. La grande competitività del nostro Ateneo rispetto a standard europei anche dal punto di vista amministrativo gestionale è certamente frutto degli incentivi messi in campo dalla scuola nell'ambito del proprio margine di autonomia e di risorse ma senza investimenti nazionali stabili e finalizzati risulta difficile compiere pienamente questi traguardi. Ci auguriamo quindi che i nuovi investimenti per il personale universitario e anche specificatamente per la valorizzazione del PTA previsti nelle prime bozze della finanziaria 22 che è in corso di discussione possano realizzarsi consolidando questa sensibilità che qui appunto è già molto presente al supporto della struttura amministrativa del comparto università economicamente a livello nazionale tra le meno sostenute di tutta la pubblica amministrazione. And now please allow me to say a few words in English for our new foreign researchers and students. First of all on behalf of all the technical and administrative staff I'm representing I would like to share with you our warmest and most heartfelt welcome to CISA. On this occasion I would like to wish you all to fully immerse yourself in the spatial nature of this university that is not only a school of excellence but also a place where a community of people in love with research and science get involved daily to improve knowledge and and its dissemination. So I wish you all to embrace this chance as an opportunity not only to improve your competence and boost your scientific career but also to live a unique experience that will bring you even closer to the patient for knowledge. So welcome you all. Welcome to to our new director professor Romanino and to our new but not so new general secretary Marco Rucci and my best wishes for a correct for an academic year full of successes. Grazie. 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 Ringrazio la dottoressa Cortelli. Invito adesso la dottoressa Elena Giorgesca eh per il suo intervento in rappresentanza degli allievi e degli allievi della CISSA. Prego. Do a PhD is very difficult, even more so during the historical times of global emergency we live in. But then again, it is all the more meaningful for that very reason. Make no mistake, your life as you progress through a doctoral degree will be challenging, but it is also a privilege, allowing you to experience freedom in achieving both professional and personal growth, which is not available to many around the world today. I'm also thinking about a certain kind of freedom, which is exclusive to the PhD life and especially unique to the CISA academic journey. Regardless of whether you joined us with the innocence of the undergrad or came with the baggage of the business sector, you will be faced with the same unbearable lightness of being a PhD student. Perhaps unlike what you're already familiar with, there isn't really such a thing as a typical PhD day. So here is what you can expect. You can be crazy creative, but this requires discipline to give you direction and structure. Time will not be strictly imposed on you, which will sometimes make you feel lost, but will also allow and require you to have the independence and stamina to reach your goals. Remember, your PhD project is your own creation. Really own it, be passionate and have fun. But this will also mean that you are responsible for it. And indeed, you're going to have to defend it at the end. All your formal and informal training, the supervision process itself are meant to support and guide you in harnessing these freedoms and meeting these demands. Find out how it works, what's expected of you, what are in turn your needs and expectations. Learn how to communicate well. Whatever your mode, vibe of study and work, overexerting yourself won't necessarily lead to gain in brain productivity. Trust me, I'm doing a PhD in neurobiology. The spatiotemporal navigation of this complex process will no doubt change you. I want you to be mindful of this transformation, cherish it and try to make the most of the opportunity it presents. Learn how to use the power that comes with it, because your actions, your very presence will in turn change life at CISA. It's these dynamics what makes the CISA community stand out, adding value to and justifying our esteem and reputation of excellence. It's this spirit we CISA students try to embody. So make meaningful, inspiring connections to your peers, to your supervisors, to professors and all of CISA staff. Be kind and understanding to your peers, as well as your supervisors, professors and all of CISA staff, whether your interactions are virtual or in presence. We are all human and scientists should be humanists. In hope of better days to come, but really in any case, the student representatives are volunteers that will represent your interests in the administration of the school and will help you through the PhD process and the services you are entitled to. Your peers will help you learn what you need to know, not only on courses and research, but also to find your ways in your new home in this lovely city of Trieste and beyond. When in doubt or having a bad day, a bad week, a bad month, or even a year for that matter, be it in connection to your PhD project or due to personal turmoil, the student representatives will be available to point the way to whatever help you need. But I also encourage you to reach out to your colleagues as well as to give support yourself. It's a pleasure and an honor to stand before you today on behalf of all the student representatives and the entire student body. I warmly welcome the new generation of PhD students to our amazing international community. Good afternoon to you all and good luck. Thank you Dr. Giorgeska. Siamo adesso arrivati al momento della Lectio Magistralis della nostra cerimonia. È davvero un piacere e un onore per me poter invitare sul podio la professoressa Vittoria Colizza, direttrice dell'Inserm, Istituto Nazionale della Salute e della Ricerca Medica di Parigi. La professoressa Colizza ha conseguito il dottorato di ricerca in fisica statistica e biologica presso la SIS nel 2004, ha in seguito svolto attività di ricerca presso la Indiana University, per poi rientrare in Italia grazie a un prestigioso IRC Starting Grant. Dal 2011 è attiva presso l'Inserm, che dirige dal 2017. L'attività scientifica della professoressa Colizza si focalizza, tra le altre, sulle epidemie, sul rischio pandemico, considerando il ruolo della mobilità delle reti sociali e dell'interazione tra il comportamento delle popolazioni e le dinamiche di contagio. Con l'avvento della pandemia di SARS-CoV-2 è stata consulente degli organi di governo e della sanità francese. Per il lavoro svolto durante la pandemia nel 2020 è stata insignita dell'onoreficenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. La professoressa Colizza terrà la sua lezione intitolata Data Fighting Pandemics in inglese. Il polio è suo. Grazie, grazie mille. E buongiorno a tutti. Io, sì, farò la mia presentazione. I'm going to do my presentation in English. Let me just briefly do my greetings in Italian. I think this is rightly due. Vorrei prima di tutto salutare tutti gli studenti della Sissa. Io con loro condivido parte di un percorso professionale ed è chiaramente il motivo per cui sono qui. Vorrei ringraziare l'intero personale della Sissa, anche chiaramente il dottor, il direttore, professor Romanino. Ci tengo anche a salutare gli altri ospiti e speaker con me in questa inaugurazione. Maria Cristina Messa, la ministra di Università e Ricerca del governo italiano. Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Vorrei salutare le altre autorità presenti in sala. La dottoressa Serena Tonell, vice sindaco del comune di Trieste. La dottoressa Alessia Rosolen, assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia. Il dottore Annunziato Verde, prefetto di Trieste. E infine vorrei chiaramente salutare anche gli altri rappresentanti del mondo accademico qui presenti. Il rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda. Il rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton. And the director of ICTP, Atish Dabalcar. Let me say that for me, this is really a profound privilege to be here. 20 years ago, I entered this school. It was a key moment. It was actually my sliding doors moment for my trajectory. Here, I discovered I listened to a talk. I discovered that I could apply my training to epidemics. And from there, then I followed my path and my passion. And in doing so, of course, much of the training that I received here was put to use. And among that, clearly models and data. And when we think about data in our response to fighting epidemics and pandemics, we think, of course, nowadays, because we have incredible and vast and a large variety of data sets. But the core of the use of data, so the need, the understanding that data was needed and models were needed in order to respond to ongoing epidemic dates much back in the past. Probably, really, the pioneers of what is today known as epidemiology are John Snow, William Farr, who, putting dots, cases of cholera on a map in the streets of London, were able to identify the cause of the disease propagation. But then when we talk about data, we often forget that data itself is not information. And in order to extract information from data, we need an analytical framework. And models date even far more far back in the past, with the first model developed for smallpox. Now, in absence of, and let's say more recent examples, models, if we go to recent history, when we're really models who were sitting at the, starting to be sitting at the table of policy makers, happened, for example, in the UK food and mouth disease in 2001, where, following the advice of models, a large, a huge number of animals were called. And then also during the SARS epidemic, where the first models, a couple of papers published in science identified that indeed, there was a control ongoing on the epidemic. And there was through the estimate of are not and then are in time, something that nobody in our field thought that would become so widespread and so well known into the general communication into the general public. And there was probably the very first use of these tools and of these estimates that nowadays is just another indicators that we look at. Now, in absence of data models, what do we typically have? We can think about a couple of, let's say, stones that we can use. On one side, there is previous experience. So we can go and look back in our past and look at past epidemics. Now, of course, this creates a lot of travel for a set of different reasons. The last pandemic of worldwide dimension was a flu pandemic. And clearly, it has nothing to do with what we're facing today with COVID-19. So it's a problem. If we look in the past, we may miss what is the good paradigm for an epidemic that is applicable to what we're seeing today. Another problem is also that things evolve very rapidly. By the time we were asked the same question when we were working against the 2009 pandemic, and the previous pandemic dated in the 60s. And of course, our world was totally different in terms of interactions, in terms of movements, and also in terms of our ability to respond. And if we just focus on the current epidemic, we know very well what are the limits of comparing different countries. The situation today with the rise of cases in Europe doesn't allow really to understand what is happening, what is going to happen in one country based on the experience of other countries. Experiences are not that easily exportable. And if we compare it to the last past, last winter, clearly our situation today is totally different. We have a virus, a variant that is almost at least twice as contagious as the one we had last winter. We have vaccination. And so a lot of different conditions for which we cannot take the experience of last year to understand what is going to happen. Then, of course, we can always use common sense. But common sense typically fails us, especially when we're dealing with nonlinear behaviors, which are the bread of epidemics. And a typical example of that is the so-called exponential growth bias. So our brains are very good in understanding and predicting linear increases are not very well at predicting, instead, exponential increases. And research shows that this is valid also for mathematically skilled individuals. So it's not exclusively about a question of education and training. Now, if we look at the plot, the curve of an exponential increase, typically scientists recognize that it's an exponential increase from the start. And instead, when communicating to the general public, the understanding of the general public, the understanding of the media, the understanding also often of authorities, is that the exponential increase belongs only to the part in which the curve goes almost vertical. And this is quoted. What is the problem with that? The problem is that even when we have very small numbers, if we're not able to understand correctly understand what is the risk we're facing, either as individuals or authorities, then we have a problem into preparing and into putting in action the measures for preserving once on health or preserving the society's health against this exponential increase. Now, this was a nightmare of communication during the first wave. But unfortunately, this still happens at the fourth or fifth wave, depending on the country currently in Europe. And you would still listen. I've been around in Italy for a few days now. You would still listen to many interventions on the media mentioning numbers are still small. And that doesn't prevent numbers to go very high very fast. So, of course, models are there for that. Our models are there for identifying and accounting for those nonlinear behaviors. And we've been working in terms of modeling, mathematical modeling, and also statistical modeling clearly for a long time. And I think we have on the back at least 15 years of work into preparing these models. Models that have been already used in past epidemics in the response to past pandemics that have been, of course, validated over time. That doesn't mean that the model is fixed and is, let's say, good at a certain point. The model continuously evolve depending on the situation that is at hand. And there are large spectra of models that we can use. And there I rank them from left to right and going from low to high resolution. So we start from a modeling population into to age classes, for example. And this is probably one of the mostly, most largely used approach during COVID-19 pandemic. Then models that account also the space and model that are defined at the level of the individuals. And so include, for example, work and schools and other models, which are even at higher resolution, looking at contexts from one person to another. Now, if we go from left to right, we need more data. And of course, when we talk about an epidemic, we always, it's immediate to think that we need data on tests, we need data on patients, we need data on who's going to be vaccinated. And these are in collected, of course, let's say with some difficulties in some cases, but these are collected everywhere in the world. Now, what we are probably still missing, or probably we still have a lot of progress to do is data on covariates, or at least that we don't have really good infrastructures to collect this type of data, data that describe the behavior of individuals. And clearly, we know after almost two years of pandemic that our behavior is the key element for COVID propagation. And it's really something that belongs more traditionally to social science. That's why we need, of course, to integrate that aspect. Now, in absence of covariate data, we typically use proxies, and we'll see a couple of them. And in general, you want to have a very large number of data, multiple data sources, you want to reduce uncertainty. And of course, you also need at the same time, flexible approaches that can integrate all the sources coming from different areas, and then provide in a timely manner, a solution. And if we go back just a little to, let's say, to enjoy, if I can use this word, the type of response that we were experiencing during the first wave, and what kind of preparedness we have. In terms of preparedness, this depended varied a lot from country to country. And there was a transient time during which then countries more or less adopted the same type of data collection. And of course, there were countries that were faster in doing that and countries that were less faster. And for what concerns preparedness, typically countries have surveillance systems, which are the ones who are supposed to provide the alerts that something is happening. In France, we have a network like in many other Western world. In France, this is particularly extended on the territory, a network of Sentinel general practitioners who provide information, for example, on how many individuals every given week presented themselves with symptoms of influenza-like illness. And by the time the emergency was declared, was being declared by Italy at the end of January, because of patient one hospitalised and infected, found to be infected with COVID. In the course of the Sentinel surveillance, in the general population, we were able to see in France, an unprecedented increase of cases after the wave of influenza. And this allowed us immediately to see that something was going on, to disentangle, likely a signal that was due to the wave of influenza that was going down, and something else that the system was picking up and going up. Now, of course, the advantage of having this surveillance system is that they belong to different levels, general population, but they also need to belong to, for example, emergency rooms, to the hospitals, to the emergency medical service at home. And all these systems provided to be useful in a crisis like this one that was extremely rapid and unexpected and unprecedented with respect to our previous experience, because systems were digitalised and were centralised. Now, France also had a peculiar situation in that the database of hospital admission and hospitalised over time due to COVID was built on an infrastructure that was already existing, which was the infrastructure that was built in 2015 to collect data on victims of terrorist attacks. Nonetheless, in February and March, there was a huge amount of work in order to make this infrastructure available for the numbers that was going to pick up. Of course, it's clear to imagine that numbers and sizes and updates and type of information are definitely different. These are the hospital admission data, the data that we've been using as modelers in France for since the beginning, because they are among the most reliable ones, since that they don't suffer from biases in surveillance that could be due to that are intrinsic to testing. They don't suffer to typically from changing policies, for example, changing on how testing is performed, whether it's paid or not, whether you need, for example, a prescription or not. Now, the problem with this data is that they are not the most immediate, and timeliness, of course, is one of the biggest problems when you want to face an emergency. The plot, for example, on the left shows the situation that we were having about three weeks after the lockdown that was implemented during the first wave in France on March 17. So this data arrived late. Three weeks after, we cannot count on data on tests. We can count exclusively on this data. We see from the data that the rise has been stopped. We see a cloud of points fixed at a certain height, but we don't see yet the decrease. And of course, the big question from authorities that they wanted to know was, is the lockdown working? That was the single unique question that needed to be answered. And it needed to be answered also because there is also a need to, again, communicate to your population that has been three weeks under lockdown, and communicate also what is happening next, what if the lockdown is going to be renewed or not. And so we had a very limited time frame. And of course, you need that. It's it's I don't need to explain to this audience that modeling is not simply a button that that you push. And so there is a certain time that you need in order to fit your model to the data, provide, run your simulation, analyze the results, redo all over again. And in time, so because something is not as expected. And so in this very limited time, we wanted to provide this answer, but we didn't know exactly what was happening on the territory. We had no idea how many people were respecting the lockdown. And so in advance to the hospitalization data, what we use was was mobile phone data. And why we were doing that because we had age content matrices that could allow us to understand what type of contacts were established by individuals at home, at school, at work, on transport. But all of these data were collected prior to the pandemic, so they were not affected by this gigantic disruption in our social and daily life. So thanks to a collaboration that we had with Orange that was already existing at the moment, we were able to set up a project that allowed us to track the how mobility was changing over time. And by the way, the first instances of this type of results were really coming out of Italy from the north, showing this reduction. But this reduction itself, of course, is not indicative, but this reduction can allow us to parameterize how many people are staying at home, how many people were still going to the hospital while the rest was completely shut down. And so it allowed us then to integrate this information and data into the model, and to provide in anticipation to the observed reduction, the fact that that lockdown was working. Now, this is typically called now casting, it's borrowed, it's a term borrowed by economy that referred to the immediate past and present and likely also immediate future. You cannot go much further than that. Modellers have been on the forefront of this fight, they have been, there has been a huge, also communication around the modeling results. And also huge responsibilities, of course, around that, a lot of these has been written during the first lockdown, also a lot of criticism. But then what really happened is that as it happens here, and in Italy, then the countries, the modelers have been working across and throughout the pandemic, and not only, of course, during the first wave. And questions have been evolving over time, depending on what were the needs, but also depending on unexpected events that occurred across time. Let me take advantage of this moment to mention that, of course, all of this work, incessant work for about almost two years, has been done thanks to a large team of collaborators. Of course, first of all, the members of my group have been working incessantly around this topic and exclusively around this topic, but then a large side of collaborations within the country and then outside. Now, in terms of models, a lot of the communication has been around the now casting that we just mentioned, so that provides an awareness of the situation. Often, we don't have yet the data to understand what's happening. And so models can help us understand that. And then, of course, into the future, whether we're talking about forecasts similar to weather forecasts, whether we're talking about scenario and projections on a longer term. Of course, this type of model predictions entice the general public, the media, and often also authorities. Models don't do only that. Models are extremely important also to look in the past in order to understand whether we should apply, for example, another time, a certain measure. We want to know exactly how it worked in the past in order to try to estimate how it's going to work in the following. But then models are also useful in terms of not necessarily contextualized to a specific time and not in the past, not in the future, but in a more of a synthetic time. Models are used, for example, parameterized on the available knowledge on COVID-19 and modeling have been used in order to put in evidence that contact tracing was an important aspect. That anyway, speed in contact tracing was really the most important aspect, that maybe digital contact tracing could have been useful. And this has been adopted differently across different countries. And I know reactions and adoptions of the populations have varied a lot, but some countries have been using that in a systematic way. And these measures has also been evaluated. Models can also be used in order, for example, to understand how to better control viral circulations in school, for which for so long we didn't really know much about. So models have a large variety of objectives. And of course, in order to work, they need a lot of different types of data which are not exclusively test, hospitalized, and vaccinations. So I decided to bring here three examples to show a little bit spanning across the different objectives of models to present a little bit what kind of approaches we can think of. The first example was is an example that looks at behaviors. Once again, these data coming from mobile phone data. There they are provided by Google and provide the variation in the percentage in the presence at workplaces in a moment in which we're going out of the first lockdown. And so people were progressively going back to work. But as you see, very differently across regions in France. Then there are other systems which are crowdsourced surveillance, and these have been put in place in 12 countries in Europe. And they provide not only information on the disease, but also information on the behavior. How many people, for example, decided to go tested in presence of COVID-like symptoms? How many were given prescription? How many just went to the doctor? And then also the compliance to recommendations. Recommendations stayed constant over time once we exited the first lockdown, much like in many different countries. But then you see clearly a waning in the adoption of these measures, typically because people perceive fewer risks. The epidemic situation is more favorable than respect to before. And these changes also depending on the age. For example, we found that seniors were instead of maintaining a larger adoption into, for example, avoiding physical contacts. Now, integrating all of this information into a model, we were able to show that cases were severely underestimated in France. So once the new surveillance system and testing, test and trace system was put in place after the first wave. And this is no surprise. So it always happens with any epidemic. But in a case specific of COVID, where we need really to prevent transmission, underestimated cases means that we are leaving people out in the wild propagating the disease unknowingly. And besides that, models also allow us to identify what are the obstacles that prevented us to do better. What can we improve in the following months? And for example, we saw, well, clearly this was easy to imagine that capacity was still insufficient. And we know that capacity builds over time, whenever we need to put a new measure at the beginning, there are struggles. But then also that the doctor prescription to get tested that had to be eliminated as this was an obstacle not only to get into testing, but also into increasing the delay from the moment in which a person becomes transmissible, and then the moment is in which the person can put himself or herself in isolation. And then also a very strong lack of awareness on symptoms. The population didn't know what to do in case of a runny nose, in case of a headache, in case of different types of symptoms which are associated with COVID. The second example instead looks at, well, of course, it was clear to us that we were going to face several successive waves. And then we, all countries, responded to the first one, almost all countries responded to the first one with a lockdown. And of course, the natural question arises, what are we going to do in the next? And many authorities declared after the first lockdown that we're never going to put their population in lockdown again. And of course, this happened and happened again. And so the natural question arises, well, you have a population that has been put in lockdown several times. You are still under an emergency, for example, the third wave during the spring of this year due to the alpha variant. And on one side, you know that you will need additional restrictions. On the other side, you are, of course, worried about the population. So what kind of interventions is best, is optimal on one side to be less invasive if possible, to have the smallest impact on the quality of life, and at the same time to be instead impactful on COVID epidemic. And so we used, again, data that were observed previously into understanding the mechanisms behind the waning of adherence in the population. Once restrictions are put in place, they are not changing. But anyway, the response is changing over time. And we saw that this was not, was due to a building anxiety. France passed from October 2020 to about the beginning of the summer this year, under one form or another of restrictions. We spent months in a curfew, starting at 8pm and then anticipated at 6pm. And of course, this led to what we see in the data, that anxiety increased rapidly in the population. And this was not due to the fear of COVID, fear of consequences of COVID, fear of the epidemic, as fear was going down, even though we were waiting to see the third wave rolling. And so you can look at interventions from a different perspective, highlighting and putting in and identifying what would be the optimal interventions to control the wave by accounting that people may decide as an upon to abandon the respect of measures. And at the same time impacting the least possible, the quality of life of individuals. And in this case, the solution was still a rapid and strict lockdown. So on that scientific work, even accounting for all these behavioral aspects, I still believe that intervening strongly and rapidly is the most effective measure. The third aspect is what we could do at school. We have been underlooking a circulation in schools for so long. And I know this has been a large of a large theme of a large debate here in Italy, but I assure you, it was it's been exactly the same in France. And so what we've been able to do was to use contacts between individuals and then also testing data collected in schools coupled in a model in order to identify what would be the best protocols in order to reduce virus circulation and at the same time also minimizing school closure. And we found that the protocol, which is still currently applied by our the French Minister of Education, that is the reactive class closure after the first case. I know currently in Italy, it's a reactive class closure after three cases is is not, of course, very effective, not in preventing cases, because most of them go under looked. And also it's not effective because it provides a large increase in the numbers of days lost on average per student while instead regularly testing students, for example, once a week would provide an advantage in both in both situation being extremely cost efficient. Now this information has been provided to authorities since about September of last year. And it took quite a while to get the first experimentations going. Then, of course, models need to be agile. And we know that this epidemic confronted us with the novel unprecedented events. The most classic ones are, of course, the emergence of variants. And in this case, not only your system need to readapt in terms of improving virological surveillance, in terms of improving genomic surveillance, and except Denmark and the UK, basically the entire rest of Europe, including, of course, Italy and France, were doing quite poorly in that respect before the alpha variant arrived. But this also shows the need that things cannot be done only in the modeling room, and things need to reach out to many different systems and layers. Due to this emergence, the Ministry of Health and Ministry of Research in France decided to make a large investment of tens of millions of euros to create a new infrastructure. And at the same time, this infrastructure was devised, and its protocol was designed, putting in evidence the surveillance objectives of the infrastructure, but also the research. Too often when we do response to an epidemic, we put in place a certain number of interventions, but we do not collect enough data to evaluate whether these interventions are working or not. And this is one clear point that needs to be improved over time. And then, of course, there is communication. We have been, we received an unprecedented attention. Most of us have not been trained for that. Culturally, the population is not trained to understand, of course, all the implications of modeling results. And especially, most importantly, its limits. The biggest challenges are where in providing information that were, if there was evolving over time, that was not dogmatic, it was not certainty. And it was not so much about the uncertainty of a prediction. But it was really about its possible evolution over time, its update over time. And then, of course, the biggest risk for me, it was the hypersimplification, which is often performed into a binary, into, let's say, flattening a very complex problem into a binary selection, whether it's zero or one. So, for example, are schools open a risk for COVID-19? It's an ill-posed question. And the phenomenon is much more complex, and it takes, of course, time, and it takes also certain training in order to explain it and in order to receive it, on the other hand. And once we do that, limitations are clearly the most important aspect of the communication, especially when timeliness is important, and you want to provide information as fast as possible, but also as good as possible, as reliable as possible. This is done through continuous updates, but communication happens continuously. And in that situation, communicating limitations is as important as communicating the results of the model. But communicating limitations is not as easy. Of course, model experts are used to that, but limitations are often underlooked. This communication need to be, of course, continuous, preferably need to be trained in peacetime and not set up during an emergency. This typically leads to a lot of problem in interpretation. And it's also best performed when there is an intermediate body who has the expertise of doing or understanding modeling and can relay this information to authorities. The other aspect is the difference between forecast and projection. As I said, the future is what everybody's interested about, but models are not crystal balls. And this is still two years after into the pandemic is still hard to communicate. And if you want to be technical, there is a major difference between forecasts, which provide model predictions of what will happen. And these are very similar to what, of course, with an uncertainty is a very similar to what we do every day with weather forecast. Now, there are limits that they are very short on a very short time range, about two or three weeks. I'm showing here, for example, the the forecast provided by the ECDC forecast. Ensemble for France on the left and Italy on the right collected in mid October. They are useful to anticipate short term resources in a very practical and operational manner. That means how many beds do I need to free in one hospital ward in order to accommodate the incoming flux of COVID-19 patients that we are expecting. But they're not useful in order to understand trends and where the situation is going. Let me show you with examples. But at time in mid October, France was a very largely flat behavior. And of course, your predictions at that point, when you are you have R equal around one. They're not even qualitatively helpful. They're telling you that everything can happen. It can continue to be flat. It can go up. It can go down. So this is not so much information. The other problem with this forecast, and it's also, of course, in the communication interpretation is the change points. If we look at the case of Italy, by that time, the epidemic was decreasing. And so projections were going to decrease as well. But then the data shows that there was a sudden increase. Now, is this due to policy changes? Green Pass was implemented. Is it due to fluctuations? We know that week by week, this data can change. Or is it due to behaviors? And behaviors is the most important aspect, of course, that challenges our ability to understand and provide information on what is going to happen. Now projections are a totally different set of information that models can provide. They look at a larger, longer time span. They are conditional to epidemic conditions. For example, if we stay in this condition, this is what is going to happen. If we put a curfew, this is what we expect is going to happen. If we relax and we take off the Green Pass, this is what we expect to happen. They are useful to anticipate trends, to anticipate also that maybe a wave is coming, like, for example, in this moment, and then allocate resources and identify that there are needs for some decisions. But they are not forecast. And this is one of the biggest limits that, of course, are hard to understand. Now, on the left, authorities would love us to have longer time frames, which we can't, by definition. On the right, authorities would like to have more certainty. And we can't, again, by definition. These provide conditions based, projections based on condition. And it's puzzling, somehow, how we forget about this condition. Even though we do that in our common life, we have to go from A to B. We know that the time it takes us will depend on the transportation mean. And at a certain point, the transportation mean, so the conditions are as important as the numbers shown over there. And we cannot, of course, forget them. And now something else happens. And maybe we decide to go by walk, and then we realize that it's too long. And so we change behavior, we change condition, we jump on a bike, and then we reach the destination. Now, what can we say on the model projection? Well, typically, in that case, some of these conditions, some of these projections, for example, are the very larger third wave that was coming. Of course, we never reached that height in terms of number of admissions. But we never reached that because interventions were put in place. And so we changed those conditions. And these projections often are made to make the curves lie. So that either a change of behavior or a change of policy is implemented. Now, let me conclude in saying that these models are need to be extremely flexible because there is a continuous flow of information, fitting comparison with observation, validation, revision of the model, etc. And so there is a continuous dialogue between model results and the data that we collect from the field. But most importantly, what also we need to understand in terms of the limits of this model, what is really the frontier that we are hitting here, is that whenever we do model predictions, often these are used in an ensemble and synthesis together with many other information to provide policy decisions. And of course, policy decisions are meant to change our behaviors in some sense. Lockdown, a curfew, a green pass, isolation, etc. But the other aspect that we often forget is that simply communicating about models will then change also some of the conditions. And this was clearly seeing COVID-19 in many, many times with the incentivization into uptaking, for example, preventive measure into uptaking vaccination, or instead into a relaxation phenomenon that given restriction were still on hold, individuals have started to abandon those restrictions. And I think this is really the part that for which research is currently working on. We have plenty of data coming from COVID-19. We have pushed our ability to change our behavior to extremes that we never thought possible before, and we still need to characterize and understand behavior. And this is probably the main limitation we have with models at the moment. I would like to conclude here, and I would like also, well, simply to say, Auguri a tutti gli studenti della Sissa, affinché troiate il vostro talento e possiate seguirlo nel vostro futuro. Grazie. 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 la professoressa Colizza per le illuminanti parole. Ci addentriamo adesso ulteriormente nelle tematiche della comunicazione della scienza con Tavola Rotonda, che sarà moderata dal dottor Massimo Sideri, editorialista del Corriere della Sera e responsabile editoriale di Corriere Innovazione. Pertanto invito cordialmente il dottor Sideri a raggiungere il tavolo di presidenza. Grazie mille, bentrovati e benvenuti. Chiamo subito con me sul palco il dottor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che ci avrà giunto qui a Trieste. Benvenuto. Si può mettere nel primo, così teniamo la giusta distanza. Teniamo le distanze di sicurezza. L'ho invitata sul palco, così possiamo dare il benvenuto insieme alla ministra dell'Università della Ricerca, Maria Cristina Messa, che dovrebbe essere già collegata. Buongiorno. Buongiorno, ministra. Allora, abbiamo sentito degli interventi straordinari sull'importanza della comunicazione scientifica e credo che a nessuno in questa sala, come dire, manchi la competenza e anche la contezza per comprendere quanto la comunicazione scientifica sia emersa anche nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi due anni, come elemento rilevante. Adesso tentiamo di aggiungere un ingrediente che rende ancora più complesso un po' il tema, perché vogliamo tentare di capire cosa succede quando caliamo la comunicazione scientifica all'interno della società, per altro in un momento di emergenza, che è esattamente quello che è capitato. E guardate, cambia un po' tutto, perché dobbiamo parlare, lo dico da giornalista, evidentemente con la società, con l'opinione pubblica, quindi cambia la sintassi, cambia la grammatica, cambia il feeling, cambiano le emozioni, quindi bisogna saper dialogare anche con le emozioni. Abbiamo sentito prima che il tema anche della paura rientra evidentemente nei dati che dobbiamo rilevare e peraltro non sempre il timore coincide con l'emergenza che si sta vivendo in quel momento, quindi ci sono anche dei momenti di asincronie tra queste varie variabili. Mi piacerebbe che ci fosse una formula, ma in realtà per come la vivo io l'informazione è quasi più una bilancia da tenere sempre in equilibrio, non ci sono formule che permettono di in qualche maniera gestire la comunicazione nella maniera sempre corretta, perché la comunicazione sfugge, sfugge anche ai propri titolari quando viene immessa all'interno della società. Infatti questa è stata una pandemia non solo medica, è stata una pandemia anche sociale, una pandemia anche informativa, anche mediatica, insomma non a caso parliamo di infodemia e quindi giustamente oggi abbiamo sentito parole come fake news, disinformazione, ma guardate l'informazione scientifica e anche non scientifica calata nella società tende un po' a perdere il controllo anche quando non è disinformazione. Vi faccio un velocissimo esempio di questi giorni. Sabato a Milano è venuto a parlare, come avrete letto, visto e sentito, il figlio di Bob Kennedy è sceso in piazza, aveva delle persone di fronte a sé, ha parlato di teorie cospirazioniste assolutamente assurde. Bene, un giornale in una situazione del genere o un telegiornale o un qualunque media cosa deve fare? Perché la formula da applicare non è facile, non dare la notizia vuol dire rischiare di entrare in una sorta di censura, non possiamo decidere noi cosa va detto e non detto nel momento in cui è accaduto, perché quello era un fatto, era un fatto anche che ci fossero delle persone da ascoltarlo. D'altra parte come si risolve normalmente questa situazione? Si risolve facendo un articolo in cui si mettono, si pongono dei dubbi su quello che ha detto Bob Kennedy, di peccato che poi questi dubbi vengono utilizzati magari da una parte dell'audience proprio come la prova che i giornali fanno parte del sistema e quindi in qualche maniera non vi vogliono far conoscere la verità. Vi faccio soltanto questo esempio per dirvi appunto che magari esistesse una formula matematica o una modellizzazione per gestire l'informazione. Allora, Maria Cristina Messa, c'è un tema legato anche al fatto che chiaramente la scienza, come abbiamo visto in questo periodo, deve darci delle indicazioni, deve dare delle indicazioni, peraltro abbiamo visto in una situazione di continuo movimento delle informazioni, però poi le decisioni devono essere prese dalla politica. Nel suo caso, diciamo, è facile risolvere l'equazione perché sia una ministra sia una scienziata, però non possiamo pensare a un governo di soli scienziati perché sarebbe una scientocrazia. Rischieremo appunto di perdere la bellezza della multidisciplinarità anche nei governi, quindi come si risolve anche un po' questo passaggio dal tema della scienza al tema poi dei decisori politici? Come si risolve? Sarebbe un'ottima cosa che in un periodo come questo veramente particolare per il nostro Paese, in cui come ha detto lei, sono arrivati a governare persone che non hanno fatto politica nella loro vita, che hanno un percorso diverso, la politica ne approfittasse per riacquistare questa dimensione, per farsi portavoce di questa dimensione, di una comunicazione diversa rispetto a quella a cui siamo stati abituati nel passato, una comunicazione che tenga conto di, quando si parla di aspetti scientifici ancora di più delicati come le scienze della vita, che tenga conto di tre aspetti fondamentali. L'aspetto delle fonti, le fonti qui si sono perse in qualche modo l'importanza della fonte di una determinata informazione. L'informazione rimbalza e si perde l'origine e questo è che andrebbe assolutamente corretto. corretto. La dipendenza di queste informazioni da un metodo scientifico, ora noi dovremmo insegnare il metodo scientifico nella scuola, ci sono delle corsi a scuola che si concentrano sul metodo scientifico, ma probabilmente non insistiamo abbastanza, oppure non li abbiamo aggiornati rispetto a quello che succedeva 30 anni fa, 20 anni fa. Bisognerebbe, così come abbiamo detto, dedichiamo lo sport, dello sport per i bambini, ma dedichiamoli anche del tempo per capire cos'è la scienza e cos'è il metodo scientifico. Credo che questo sarebbe fondamentale, perché poi, come ha detto lei, l'informazione lavora, ma è l'utenza che poi deve sapere anche cogliere quello che l'informazione dà. Il terzo aspetto è, credo che si sia capito e ho seguito anche con attenzione, sebbene non è per intera, una bellissima lezione della professoressa Colizza, capire come lavora il mondo della scienza. Qual è il momento in cui il mondo della scienza riesce a dare una sintesi che viene fuori da una serie di discussioni e da una serie di confronti. Il confronto è fondamentale, non qualsiasi cosa richieda un aspetto sperimentale ancora di più, ma anche teorico, viene fuori da un confronto fra pari. Questi tre aspetti credo che dovrebbero essere, come dire, interiorizzati dalla politica nelle proprie decisioni e spero che questo periodo che abbiamo passato serve. Allora, in effetti quello che raccontava il fatto che le fonti dovrebbero sempre essere ricordate è uno, probabilmente, un processo storico che era iniziato anche prima della pandemia, perché probabilmente possiamo collegare questa separazione tra fonte e informazione anche alla cultura di internet. Molti di noi sono cresciuti in un'era in cui ogni volta si raccontava qualcosa, automaticamente si citava il libro, per esempio l'ho letto su un tal libro piuttosto che da un certo autore. Oggettivamente i social network e tutto l'ambiente, l'ecosistema di internet che sicuramente non dobbiamo demonizzare perché permette all'informazione, alla conoscenza di circolare come non ha mai circolato nella storia, però ha creato anche questa separazione, questo allontanamento tra l'informazione e la fonte e questo spesso crea evidentemente un gap nella comunicazione. Allora, dottor Brusaferlo, la comunicazione e la scienza in un momento di, peraltro, di emergenza, di urgenza continua che richiede per certi versi una voce unica, dall'altra anche lei ha un po' il conflitto che abbiamo noi giornalisti, ci deve essere una voce unica perché la voce unica permette comunque di indirizzare il messaggio in maniera chiara, dall'altra però non si può neanche pensare di non permettere la comunicazione di diverse opinioni che ci sono anche all'interno della comunità scientifica, quindi anche lei ha un rebus non banale da risolvere. Grazie, prima di tutto mi consenta di dare un saluto e un ringraziamento al direttore della Sissa, al professor Romanino e anche al suo predecessore, al professor Ruffo, che mi ha contattato, un saluto anche ai magnifici rettori che sono qui presenti e ovviamente a tutti i colleghi, professori, al personale tecnico e amministrativo e agli studenti che provengono un po' da tutto il mondo. Lei ha posto un tema che credo sia uno dei punti chiave, mi pare emergesse anche dalle conclusioni poi della professoressa Colizza. Il tema è però che dovremmo probabilmente tutti cogliere e poi successivamente fare ricerca e aumentare il livello di conoscenza intorno a questo, il fatto che abbiamo cambiato ambiente. Nel senso che io stesso, molti di noi sono stati formati dentro un processo comunicativo anche della scienza molto formale, molto tradizionale, fatto di fonti, come citava la signora Ministra, che saluto, e un fatto di metodologie, fatto di linguaggi ben codificati che poi qualche volta transitavano anche a livello mediatico, ma mediamente rimangono dentro in qualche modo la comunità scientifica. Oggi non solo c'è una necessità di transitare rapidamente a livello mediatico, ma c'è anche un mondo che non è più soltanto caratterizzato da questo tipo di canale di informazione. È quello che lei ha chiamato infodemia, ma il fatto che oggi chiunque di noi possa in questo momento, in funzione poi del livello di contatti che può avere, inserire nella rete un'informazione che ritiene attendibile dal suo punto di vista e questa viene veicolata, circola in maniera più o meno significativa in funzione delle reti delle persone e sostanzialmente poi diventa parte del patrimonio di conoscenze o di informazioni, più che di conoscenze, di informazioni che vengono messe a disposizione dell'utenza. E quindi sostanzialmente il problema che si pone è quello di capire come e quali fonti poi posso utilizzare, tra le tante informazioni che vengono di fatto. Questo probabilmente non è molto facile, probabilmente credo richieda un'attività di ricerca, credo che parlarne oggi in questa sede è un elemento che è estremamente importante, perché credo che proprio da qui si debba partire per comprendere meglio questi fenomeni, ma richiede anche sostanzialmente uno sforzo da parte nostra nel comunicare in maniera anche più diversificata, andando a intercettare questo tipo anche di esigenze. E probabilmente richiede anche una grande attenzione nello stratificare i diversi tipi di popolazione. La professoressa Colizzi ha detto molto bene, ha concluso in maniera molto forte, ricordando come oggi, soprattutto in questa situazione, i comportamenti facciano la differenza in qualche modo e probabilmente l'andamento delle curve è molto influenzato dai comportamenti. Noi l'abbiamo vissuto anche durante il periodo estivo, con l'esperienza degli europei sostanzialmente. Questo è probabilmente anche oggi l'andamento della curva, come stiamo dicendo più volte, è influenzato e sarà influenzato in qualche modo dai comportamenti di ognuno di noi. Bene, tutto questo elemento però richiede questo tipo di riflessione. Quindi da una parte comunicare in maniera più tradizionale, attraverso poi una figura fondamentale, che è quella del giornalista comunicatore. Io ho la fortuna, come presidente dell'istituto, di avere un capo ufficio stampa che orgogliosamente rivendica di essersi formato in questa sede, in questo master. E devo dire che il lavoro che sta facendo l'istituto di comunicazione è dovuto alla sua competenza che si è formata in queste aule. Quindi credo che questo sia anche un segnale molto importante per investire. La prospettiva. La prospettiva credo che noi dobbiamo affrontare il tema comunicazione in pandemia, ma consentitemi anche di guardare oltre. Quando parliamo di comportamenti parliamo per esempio di attività fisica che riguardano la salute, parliamo di abitudini volutuarie, parliamo di obesità, parliamo di una serie di fattori di rischio che ognuno di noi vive e che determinano la nostra salute. E ora questa riflessione, certo, oggi è molto cogente perché tutti siamo attoccati emotivamente alla pandemia, ma è altrettanto importante nel medio e lungo periodo perché tocca in qualche modo la salute delle nostre comunità. Io credo che questo tipo di riflessione debba portarci un po' a... Io ovviamente mi riferisco alla disciplina che amo e che coltivo, che è quella della sanità pubblica, ai parametri che sono appunto promozione. E promozione ci ricorda un tema importante, la formazione e la literacy. Noi non siamo un paese che brilla tra i paesi Ocse come literacy, non brilla come numeracy e non brilla neanche come capacità di ragionamento logico. Credo che in questo spazio ci sia una delle attività che poi dobbiamo portare avanti. La seconda è la prevenzione. La prevenzione è formare, rendere trasparenti i dati e renderli probabilmente disponibili in forme anche diverse, non soltanto nella forma più classica e tradizionale con la quale noi che facciamo attività scientifica comunichiamo. L'altra cosa è la protezione. La signora Ministra giustamente citava il fatto che le fonti, certamente il fatto che ognuno di noi può mettere tutto quello che vuole, ha un elemento di, come dire, certamente libertà, ha un altro elemento però anche di responsabilità. E quindi sostanzialmente tutto quello che vuoi, sì, ma dentro, purché abbia delle fondamenti di qualche tipo. L'altro tema importante, credo ci sono altre P che riguardano in qualche modo la sanità pubblica e sono quello della possibilità di predire, lo ha mostrato molto bene la professoressa Colizza, sapendo però che nelle previsioni noi abbiamo dei range ed è molto difficile comunicare il range perché mediamente noi siamo portati a vedere lo scenario peggiore. E quando, giustamente come l'aveva mostrato, noi rappresentiamo un range nelle proiezioni sostanzialmente, non nelle previsioni, le proiezioni è un range spesso molto ampio, proprio legato a questi livelli di incertezza e comunicativamente è molto complesso da tradurre. Sapendo però che questo range è determinato dai nostri comportamenti, quindi non è un fatto che si verificherà, ma è un qualcosa che noi, quella curva, contribuiamo a determinarla gesto dopo gesto, ora dopo ora, passo dopo passo. E l'altro elemento ancora è la possibilità di personalizzazione o di precisione. Noi guardiamo mediamente, è un po' come la farmacologia, noi guardiamo tutta la popolazione, ma la popolazione non è unica, è fatta di generazioni, per cui certi tipi di media vengono usati da generazioni diverse e prevalentemente fasce generazionali usano chi più Twitter, chi più Facebook, chi più la carta stampata, chi più no, TikTok o altri tipi di sistemi. Questo ovviamente ci richiede di dover intervenire simultaneamente in maniera coerente in tutti questi agoni. Poi c'è il tema, se volete, anche generazionale, certamente. E infine c'è l'ultimo tema, che è quello della partecipazione. Chiaramente i media, questa nuova, diciamo, ambiente in cui viviamo consente a ognuno di noi di partecipare. La partecipazione però è altrettanto importante poi nell'adozione delle misure, o nell'adozione delle raccomandazioni. E questo ancora una volta vale per la pandemia in maniera eclatante, come ha mostrato bene la professoressa Colizza, ma vale anche in prospettiva, e credo che in questo senso vada l'investimento. Il tutto però, proprio in questa sede, credo ci riporti proprio alla necessità di investire in formazione. Investire in formazione che vuol dire per tutti i cittadini, a partire dai bambini, insomma, dalle nostre nuove generazioni che ci garantiscono il futuro, ma anche investire in formazione per noi, che facciamo scienza, nel modo di comunicare, nell'attenzione che dobbiamo avere, nel modo in cui comunichiamo, sapendo come il linguaggio debba essere adattato al contesto in cui venga fatto. Perché un linguaggio accademico, un linguaggio da congresso scientifico, non è un linguaggio che può essere immediatamente percepito, ma non perché sia particolarmente esoterico, abbia caratteristiche di esclusività, semplicemente perché richiede un percorso e ha dei codici di linguaggio particolari di quella disciplina. Probabilmente all'interno delle nostre stesse discipline, se io partecipo a un congresso di fisici teorici, probabilmente rimango un po' in qualche modo spiazzato e viceversa può succedere che fisici teorici, partecipando ad altri tipi di congressi, rimangano un po' perplessi su quello che viene detto. Quindi è un tema proprio... Però quando noi comunichiamo, noi scienziati, questa attenzione la dobbiamo mettere. L'altra cosa è importante avere figure di comunicatori, cioè persone, lei rappresenta una categoria che è fondamentale durante questa pandemia, che sappiano mettere insieme la capacità di leggere, di ascoltare, di capire un linguaggio tecnico-scientifico e allo stesso tempo abbiano quella conoscenza, quella sensibilità per tradurlo in un linguaggio che va adattato a ogni fascia di popolazione, a ogni media. Allora, potremmo dire che dobbiamo investire in formazione e in informazione, così uniamo un po' i due puntini. Tra gli informatici dei big data si dice, si ama dire che i dati non sono informazioni e le informazioni non sono conoscenza, nel senso che chiaramente richiedono dei passaggi in questi elementi. Insomma, le informazioni da sole chiaramente non vogliono dire che le persone poi abbiano effettivamente compreso. Quindi dobbiamo sul serio lavorare su tutta questa un po' catena della conoscenza. Anche perché, come abbiamo visto, addirittura siamo in una situazione in cui l'eccesso di informazione può creare una cattiva comprensione del fenomeno. Quindi evidentemente non è così facile da risolvere. Senta, la Ministra l'abbiamo sempre in collegamento? Sì. Sì, perfetto, grazie. Grazie. Allora, c'è un elemento, perché sino adesso abbiamo parlato un po' dell'aspetto, se vogliamo, delicato, però mi premerà anche lanciare un po' la palla verso il futuro. C'è un patrimonio che abbiamo conquistato in questo ultimo anno e mezzo, cioè la scienza ha finalmente conquistato anche addirittura la famosa prima serata in TV, quindi è stato un momento importante anche, se vogliamo, di occupazione dei media da parte degli scienziati e come giustamente ha fatto emergere anche un po' del governo. Insomma, abbiamo più scienziati nel governo e quindi la domanda a questo punto è come non perdere un po' questo patrimonio, come far sì che magari uscendo anche dall'emergenza del Covid, speriamo il più velocemente possibile, facendo le cose giuste, ma come non perdere questo patrimonio nel post-Covid? Questo è un punto importantissimo nel quale abbiamo tutti noi, ovviamente io per prima, una responsabilità enorme. Come non farlo perdere? Innanzitutto non dimentichiamo che abbiamo una strana combinazione di finanziamenti e di possibilità di cambiare le regole e di cambiare le norme. Questa combinazione non avviene spesso e riguarda moltissimi aspetti della nostra società, ma per la prima volta viene anche sottolineato attraverso la missione 4, come sapete bene, del Recovery Fund, l'aspetto della formazione e della ricerca. Quindi, e anche se vedete, o chi ha avuto modo di vedere in legge di bilancio, che adesso è arrivata al Senato, un forte investimento sulla ricerca in tutti gli aspetti che la ricerca ha. Quindi l'aspetto delle persone, quindi dobbiamo investire sulle persone, dobbiamo permettere al nostro Paese di avere una crescita. E parlo di persone, non parlo solo di ricercatori, parlo di professori, così come di personale di supporto alla ricerca, ma dobbiamo permettere al nostro Paese di crescere da questo punto di vista, anche e soprattutto, e mi rivolgo in questo caso agli studenti e le studentesse, per poter dare un'offerta più ampia al nostro Paese e poter dare la possibilità ai giovani di raggiungere quel livello di competenza, di conoscenza, che credo sia la vera sfida per affrontare un mondo complesso che abbiamo già oggi e che diventerà ancora più complesso nel futuro. L'altro aspetto che abbiamo sottolineato molto della ricerca è avere dei programmi di ricerca, non basta avere persone, bisogna dare alle persone la possibilità di farla alla ricerca, quindi i finanziamenti della ricerca, che sia questa fondamentale o che sia applicata, io come sapete non amo questa differenza, amo parlare invece della qualità della ricerca e lo dico ad una scuola che della qualità ha fatto il proprio principio fondamentale, ecco, va finanziata e non può essere finanziata solo attraverso bandi internazionali e risorse europee, ma deve essere anche un impegno della nazionale da questo punto di vista. Noi abbiamo finanziato il Fondo Italiano per la Scienza che in giro di tre anni arriverà a 250 milioni, finanzieremo il Fondo Italiano per le scienze applicate che pure arriverà a 250 milioni, che si intrecciano poi con i finanziamenti che abbiamo già e che conosciamo, sia quelli nazionali come i PRIN, sia quelli europei come quelli del Recovery Plan. Il terzo aspetto, la terza gamba della ricerca è quella delle infrastrutture. Ora, le infrastrutture di ricerca sono a volte dei punti di attrattività proprio di un paese e sono uno dei punti su cui si potrebbe agire per avere una circolazione di cervelli maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi. Perché? Perché sono degli attrattori, sono dei luoghi dove si fa scienza, dove tu hai l'apparecchiatura all'ultimo grido, diciamo così, ma è anche le competenze e sono aperti in generale alla comunità scientifica e anche alla comunità dell'innovazione e dell'impresa. Ora, è importante che noi finanziando le infrastrutture aumentiamo anche questo concetto di condivisione delle infrastrutture. Le infrastrutture non esiste più quel modello in cui ogni piccola struttura di ricerca ha il proprio laboratorio e se lo tiene chiuso per i propri ricercatori. Dobbiamo imparare a condividere le infrastrutture e in questo senso credo di sfondare una porta aperta a Trieste dove questo è già una realtà. Quindi l'investimento è importante. È un investimento che come ci dice la Commissione Europea e il programma Horizon Europe deve essere un investimento che viene compreso dai cittadini. Ecco che torna il ruolo della comunicazione e della capacità di public engagement diciamo così che dobbiamo avere. È un passo che università e denti di ricerca devono compiere a cui non sono abituati ha ragione Brusaferro cioè noi siamo cresciuti senza avere il problema di come comunicare le nostre diciamo i risultati della nostra ricerca ma le nuove generazioni sanno che lo devono fare quindi sta cambiando moltissimo in questo senso e però va fatto sempre non improvvisato cioè va costruito va dedicato anche a questo spazio di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini un aspetto formativo e questo ovviamente diventa ancora più indispensabile quando proponiamo una legge di bilancio dove alla fin fine più di un miliardo di fondi vanno alla ricerca dobbiamo spiegarlo ai nostri cittadini dobbiamo fargli capire perché dobbiamo far capire a che cosa serve la sfida quindi riguarda tutti noi evidentemente ogni parte della società deve fare il proprio il proprio dovere per riuscire a trasmettere appunto la bellezza della complessità potremmo dire perché poi qui dentro chiaramente comprendiamo tutti quanti che la scienza non sempre ha le risposte anzi la scienza cerca le risposte però trasmettere già questa incertezza della scienza come abbiamo sentito prima all'opinione pubblica è già complicato perché nella mente diciamo dell'opinione pubblica la scienza è la risposta è la risposta scientifica abbiamo sentito parlare di metodo scientifico e mi veniva in mente la storia che la storia della scienza è piena di contraddizioni enormi insomma è facile ricordare che in tema di fake news di notizie false Aristotele diceva che il vuoto non esiste insomma per 1900 anni tutti hanno ripetuto che il vuoto non esisteva fino a quando un discepolo di Galileo Galilei che si chiamava evangelista Torricelli dimostrò che in realtà il vuoto esisteva appunto con il metodo scientifico quindi evidentemente anche tutti questi secoli di storia questi millenni di crescita di cultura scientifica poi devono essere anche trasmessi nella loro complessità e nella loro bellezza dottor Brusaferlo lo stesso tema il patrimonio da non perdere perché poi i scienziati sono finiti finalmente hanno preso lo spazio che meritavano anche prima talvolta sono stati risucchiati lo dobbiamo dire anche nel format dei talk politici dove il dibattito diventa discussione talvolta la discussione diventa litigio insomma quindi vanno anche appresi un po' i meccanismi del mestiere per evitarlo ma appunto come non perdere tutto questo patrimonio di questi due anni? ma io credo che quello che stiamo vivendo è un evento straordinario le pandemie hanno la caratteristica anche di proiettarci in un film a una velocità molto superiore a quello che normalmente viviamo quindi in queste diciamo periodi abbiamo vissuto a una velocità di evoluzione estremamente più elevata che ha portato ha fatto emergere sta facendo emergere molti aspetti e anche molte discipline molte aree di ricerca nuova io credo che il tema della comunicazione oggi è diventato uno dei temi sicuramente prioritari quando parliamo lei ha citato correttamente infodemia ormai l'associamo parallelamente alla pandemia e tutti noi uomini di sanità pubblica ma anche ricercatori scienziati professori siamo molto convinti che le due cose vanno in parallelo gestire una pandemia oggi richiede intervenire parallelamente sulla circolazione del virus le misure ma parallelamente sull'informazione e la comunicazione sulla coinvolgimento delle comunità dei singoli nei comportamenti questo vuol dire probabilmente analizzare studiare il fenomeno strutturare anche una ricerca credo che la lettura magistrale concludesse dicendo ci mancano conoscenze sul behavior sui comportamenti dobbiamo capirli meglio dobbiamo conoscerli meglio e credo che questa sia una delle frontiere su cui investire e ripeto investire per la nostra salute non certo per la pandemia ma in prospettiva per tutto quello che ha a che fare con i comportamenti che determinano la nostra salute o la riduzione dei rischi questo è un elemento importantissimo credo che l'altro elemento importante sia anche la consapevolezza con la quale stiamo uscendo credo chi di noi fa scienza è del fatto di una responsabilità che abbiamo quando parliamo ovvero sia nel nostro comunicare noi dobbiamo comunicare dei risultati dobbiamo anche comunicare delle incertezze e dobbiamo comunicare degli scenari che possono verificarsi e che sono vincolati a condizioni credo che questo sia in qualche modo anche una forma di riflessione che dobbiamo tutti fare e portarci dietro come bagaglio sull'importanza che ognuno di noi ha nel momento in cui comunica oggi i risultati della pandemia domani i risultati di un'altra ricerca scientifica sapendo appunto che comunicare deve tenere conto dell'audience e della literacy di chi ascolta quindi non può essere comunicato come in un dibattito in un convegno scientifico credo che questo abbia forse i porti ancora più importanti quanto sottolineava la signora ministra che in qualche modo il legame che c'è tra il mondo della scienza e la comunità diventa ancora più stretto proprio perché è una responsabilità anche di noi scienziati comunicare in maniera partecipata in maniera coinvolgente l'entusiasmo per la ricerca l'entusiasmo per il metodo scientifico ma anche l'incertezza che forse anche è in qualche modo la bellezza e la frontiera di chi fa ricerca in fondo ognuno di noi quando si cimenta con una domanda con un quesito cerca di aggiungere un pezzettino di conoscenza che vuole condividere con il resto dell'umanità questa è la bellezza in qualche modo di quello che è del nostro lavoro e la ricchezza anche del nostro mondo perché poi tutto questo si traduce in ricchezza qualità della vita miglioramento del sistema però è giusto condividerlo anche in chi poi nella vita sceglie di non fare ricerca perché ha altri interessi però questo deve diventare patrimonio un po' di tutti credo sia anche la chiave di lettura e mi lasci concludere con un'ultima parola una chiave di lettura che vuol dire creare rapporti di fiducia tra le diverse componenti fiducia nella scienza fiducia tra le diverse discipline fiducia nel fatto che determinati metodi condivisi crescono ci permettono di crescere assieme fiducia nel fatto che chi ricopre determinati ruoli è chiamato sostanzialmente a muoversi con dei metodi condivisi e solidi proprio per aiutare il sistema e lo fa tenendo conto anche delle incertezze fiducia nei confronti dell'informazione fatta correttamente che è la parte di responsabilità che mi prendo evidentemente allora io ringrazio la ministra Cristina Messa per la partecipazione a questo interessante importante dibattito il dottor Brusaferro ringrazio il professor Romanino che ci ha invitato a questa giornata e lascio di nuovo la parola al nostro maestro delle cerimonie che ci sta accompagnando grazie mille grazie mille siamo adesso giunti al momento delle premiazioni delle medaglie alla carriera e delle premiazioni per la miglior tesi di PhD e del master in comunicazione della scienza invito il professor Romanino a raggiungere il parterre invito anche ad avvicinarsi al sottopalco Alessandra Locatello per i suoi venticinque anni di servizio e Maria Pia Calandra Eleonora Petti Rosso e Lucio Lubiana per i suoi è il momento delle premiazioni per le migliori tesi di phd e di master in comunicazione della scienza del 2021 invito ad avvicinarsi al palco silvia vappalardi ivo calaresu e fabbio forgione il premio per la miglior tesi di pc di fisica silvia papalardi la tesi della dottoressa papalardi testimonia un'ottima produzione scientifica in termini di originalità ampiezza profondità qualità e quantità congratulazioni il premio per la miglior tesi di cd neuroscienze va ivo calaresu il dottor calaresu fortemente contribuito allo sviluppo di sensori ed elettrodi basati su materiale in mano strutturato per interfacce neurali ha portato al deposito di ben due brevetti congratulazioni premio lutman per la miglior tesi del master in comunicazione della scienza ma fabio con gione dottor frongione analizza rapporto tra il presidente degli stati uniti donald trump il consulente scientifico in capo anthony fauci e si distingue tra le altre cose per l'originalità nella scelta del tema congratulazioni il premio lutman per la miglior tesi difficili in matematica valuca valuca franzoi la tese dottor franzoi presenta risultati originali sulla dinamica a lungo termine delle equazioni alle derivate parziali ammontoniane ottenute padroneggiando metodi all'avanguardia il dottor franzoi impossibilitato venire ma gli facciamo comunque le congratulazioni ringraziare la signora lupman che generosamente ha finanziato sia il premio per la miglior tesi del master e quello per la miglior tesi in matematica in memoria del marito franzo infine approfitto per menzionare che quest'anno sono state istituite medaglie in onore memoria di due grandi matematici che hanno operato a lungo alla sissa antonio amprosetti e boris dubrovi premi che è stato possibile istituire grazie alla generosità della fondazione pietro pittini la fondazione nesto illi e di sissa media che ringrazio di cuore per il loro sistema siamo raggiunti alle fasi finali di questa cerimonia prima di procedere desidero ringraziare calorosamente la sissa per l'opportunità che mi è stata offerta di partecipare a questa importante occasione in particolare desidero ringraziare il dottor nico pitrelli direttore del master in comunicazione della scienza franco pratico del quale mi onoro di essere stato studente e il direttore professor andrea romanino grazie sono lieto a questo punto di presentarvi l'intervento a cura del conservatorio di musica giuseppe tartini trieste sarà zotto alla viola e alberto forti a metto suoneranno l'aria sulla quarta l'aria sulla quarta corda di joan sebastian bach e due brani per viola e clarinetto di max brook grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.